Alle 10 e 30 scarse, finita la cena, il maestro Canello, che aveva un altro impegno in un altro veglione, varò bassamente annunciando al microfono. Attenzione! Mancano tre minuti a mezzanotte! Rimettete gli orologi, preparate lo spumante! Aspettate, meno nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno! E' bella notte! Auguri, auguri! Buonai! Auguri! Auguri! Allora, chi mi dà un bacio, eh? Io, io! All'una e trenta, ora il legale del maestro Canello, vale a dire alla mezzanotte reale, la città salutò esplodendo l'anno nuovo. Ma io faccio l'una e mezza! Ma allora c'è l'unione? Vabbè! Ma è lo stesso! E via! Andiamo tutti a casa via! Ho una bottiglia nuova di Brunella Pallor! Andi a casa Vantazzi! Via! Auguri, aizia! Chi è che viene dalla mia macchina? Ho sette posti liberi! Attenti sotto! Buttate, buttate! Buttate! Una nuova, roba nuova! Buon anno! Buon anno! Beh, io quasi quasi la lascio parcheggiata qui!